Siamo con Alberto Brandi, uno dei veterinari, anzi il veterinario per eccellenza in provincia di Arezzo e lui ha annunciato su Facebook una notizia da leccarsi baffi. Un libro, un libro nato dalla sua fantasia. Com'è nato? Allora, no, non è nato dalla mia fantasia. È nato nel periodo in cui ero ricoverato per il Covid in ospedale e diciamo così, per passare sia il tempo sia per ritirare un po' sullo spirito avevo iniziato a scrivere dei post appunto sui animali perché poi alla fine era il pensiero fisso che uno aveva e questi post hanno avuto un bel successo ma sono stati tanti like che hanno ricevuto. Poi, tornato a casa, parlando con una mia amica che è un'autrice, Rai, regista, l'Elena Gioidi lei mi ha suggerito, diceva, ma perché non raccogliamo queste cose in un libro che possono essere simpatiche, eccetera. La stessa cosa me l'hanno detta in tanti e alla fine, diciamo, io ho scritto i racconti lei li ha poi romanzati e abbiamo scritto questo libro. insomma, che presto uscirà. Poi anche il titolo. Sì, Gli animali ci salvano, proprio era un... il titolo è un riassunto di quello che appunto è successo a me ma penso che sia successo anche a tante persone cioè il fatto di avere il conforto psicologico di un animale nella vita può sicuramente fare bene.